ciao ragazzaci bentornati sul canale oggi andremo a vedere come effettuare la manutenzione dei mozzi della ruota anteriore della nostra mountain bike. ok adesso andiamo a togliere i sensori il sinistro è più grande e il destro è più piccolo, vedete? questa è una coroncina e questo no, quindi non ci si può sbagliare abbiamo fatto con il nostro attrezzo togliamo la copertura, adesso andiamo ad avvire i cuscinetti quindi ora andiamo a pulire in modo che così avrà sempre con il nostro svitol andiamo a pulire, già scorre meglio così togliamo tutto quanto il vecchio grasso e ce lo rimettiamo nuovo ok adesso ci andiamo a mettere un po' di grasso specifico per i cuscinetti e lo richiudiamo rimontiamo il parapolvere ok e adesso andiamo dall'altra parte andiamo a togliere il parapolvere fate sempre attenzione quando fate questi lavori eh fate sempre attenzione vieni a sapere cosa facciamo adesso per evitare che si contamini l'altro cuscinetto adesso lo infiliamo dentro così tutto quanto l'olio che cade rimane chiuso qua dentro così stiamo tutti tranquilli togliamo il parapolvere la due eccolo qua questo stava messo meglio dall'altro ok perfettamente sbubbricigliato sgrassato e adesso ci andiamo a rimettere il nostro grasso ecco qua ok ora andiamo a richiudere mettiamo il parapolvere e rimettiamo il parapolvere proprietario il service alle ruote ragazzi è importante è importante per una corretta scorrevolezza ok adesso andiamo a togliere il pezzo di e lo andiamo a rimettere ecco qua vediamo come scorre bello il nostro cuscinetto e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte andiamo a rimettere lo spessore della ruota stando attenti a non toccarli sulla pista frenante anche se ora comunque li sgrasseremo ecco qua lo andiamo a posizionare e ora andiamo a stringere a un 40 newton metri spero che il video ti sia stato d'aiuto se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale e di rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite ci vediamo alla prossima ciao